A quanto pare qua in mezzo è stato detto che c'è un pedofilo, forza dovete dirmi chi è. Io lo so che a uno di voi piace annusare si la scorza in mezzo alle tita dei piedi, ditemi chi è. Lui! No, non so che state! Stai zitto! Oh, Ghetto, che ne dici se faccio un A1v1, però non su Fortnite, ho visto ieri che t'allenavi. Fra, se ti sfido in un A1v1 finisce come su Fortnite, che ti è zitta. Io, non so che stai zitta. Non so che stai zitta. Mannaggia, te. Oh, Ghetto, vabbè, facciamo un A1v1, nonno, e ti clacca. Non vuoi che io tiro fuori il pisello, mannaggia, te, mo ti scopo. Che ne dici, allora, di farla 1v1, però usiamo le boxpite. Eh, mo mi sta fungazzo, eh. Cos'è, c'hai paura di sfidarmi? Che, state annusando i piedi voi? Facciamo un po' di strecci. Sarà meglio così, brutti feticisti. Se vi becco un'altra volta ad annusare i piedi, vi boccio tutti quanti, eh. Voi non capite quanta importanza c'è nel tenere stretto il cazzo. Vabbè, comunque dovete pensare a questa troia che sta nella vasca a lavarsi. Ma da quando è che dobbiamo scortare le prostitute, professore? E tocca a voi! Prendere quella troia e portarla in salvo. Mi raccomando, eh, non dovete fallire. Altrimenti vi aspetta la tecnica del posacenere. Vabbè, prendiamo una piglia. Ma io mi sono rotto i coglioni, non voglio più lavorare. Mannaggia te. Però ti prego aiutami, mi sto cadendo addosso! Non voglio stare da solo un ascensore, si blocca secondo me. Ma che sta succedendo? Dimmi di più. Aiutami, ti prego! Che c'è? Che succede? Niente, vai affanculo, mi hai deluso. Volevo fare un'altra 1v1, ma su Fortnite da mobile. Ma io non ce l'ho su mobile! Uffa, che due coglioni. Allora vado a chiedere a Donato se vuole fare lui una 1v1. Arrivo a salvarti! A cazzo! Pedofili bastardi, ora vengo a prendervi a tutti e due. Meno male che mi sono salvato per l'aquilone. Se no, se non era per l'aquilone di Fortnite, sarei caduto. Meno male che ha preso il deltaplone di Fortnite. Bravo, bravo! Quindi sei tu, Gojo Saturo, il leccapiedi. Bene, combatti contro di me. Non sono per niente frocio, guardami. Per te sembro frocio? Beh, secondo me sì. Che dici, ce l'hai Fortnite e ci facciamo una bella 1v1. Però senza i coltelli, piccolina. Va bene, brutto leccapiedi! Ma quindi mi vuoi fare una sega con quei bei piedini? Che ne dici, eh? Una bella seghettina. Bella piccolina, piccolina. Ormai mi piace farle con i piedi. Ti piace la mia cicatrice sulla bocca, piccola? No, che schifo! Sento qualcosa in mezzo al mio culo! Ma è tua madre? Però non ce la possiamo fare. Magari è morta sta coglione. Buon salve. Vai via, merda! Però ti ha sbattuto proprio il cazzo in faccia, eh? È proprio brava! Sei zitta, merdaccia! Levatemi tutti e due! AAAAAH! 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 E vi parlerò un po' della mia vita! Oh, il principe di Mississimi! AAAAAH! E da come parli? Sembra una coglione! Già, forse ha bisogno di un po' di pisello. Lei non si chiama Gabriele Gabbana! AAAAAH! Merda! AAAAAH! AAAAAH! Facile! Come una 1v1 di Fortnite! Merd... AAAAAH! Avrei detto che ti avresti mat... AAAAAH! Il mio cagnolino! KITANKUL! Era ancora un vecchio smantrappato, Iroh! E tu venivi lì ad annusarmi i piedi! Perché ora questa vita... AAAAAH! 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 Non ci credo è di nuovo lui Basta, basta Prendi mio biglietto Qua c'è scritto il mio numero No, no, non mi interessi tu Mi piacciono i maschi Le mani, che cosa vedo? Le mani Savio come Fedez Ricco, bello e pisello grosso Era una mezza sega questo Ho mandato altri cloni a scoparsi con i due A me piacciono i maschi, l'ho detto No, no, per farlo non ci armi Io non ti consegnerò niente, ti darò solo il pisello Il primo pisello te l'ho dato Il mio pisello non trapassa la barriera Io ti metterò il calzetto nel sacchettino Beh, ora utilizzerò la mia tecnica No, ti prego, non la tecnica del look shooter Ti prego, no No, la mia tecnica La madusta, la madonna nella busta Volevi usare la tecnica dell'Egitto, vero? E ce l'ho fatta, la madusta Che palla, ma il titolo è andato alla tecnica dell'Egitto Mi hanno telefonato È stata messa a percola Guarda Qu'è? 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 Grazie a tutti